Tenta una maldestra fuga su una due ruote rubata ed investe anche un carabiniere. È stato arrestato dai militari della sezione radiomobile per ricettazione, resistenza pubblico ufficiale, lesioni e possesso di stupefacenti. Ieri si è tenuta l'udienza per direttissima ed il giudice ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. A notarlo, mentre era seduto su di una moto onda senza neanche la targa, è stata una pattuglia. Il ragazzo, quando ha visto i militari dell'arma avvicinarsi, ha tentato di fuggire in direzione del centro. Una volta raggiunto, ha cercato di giustificare il tentativo di scappare, ma subito dopo ha di nuovo ingranato la marcia e cercato di investire un carabiniere, facendolo cadere a terra. A quel punto ha abbandonato la moto, cercando di far perdere le sue tracce a piedi. Subito sono scattate le ricerche. A trovarlo nei pressi del cimitero sono stati i militari del nucleo investigativo, che l'hanno evidentemente bloccato ed arrestato. Addosso gli è stata trovata anche una dose di eroina.